Sì, Presidente, solo per dire che probabilmente su questo emendamento c'è stato un fraintendimento della sorrintendenza. Questo emendamento intende eliminare un periodo che introduceva nell'articolo 5 che riguarda la durata delle concessioni, la durata per le concessioni Covid, che era di mesi 18. Ma questo emendamento la toglie, quindi il parere contrario a toglierla sembrerebbe contrario al testo inserito nel parere negativo, perché probabilmente la sorrintendenza ha capito che si voleva introdurre, invece quell'emendamento viene tolta, quindi vorrei che fosse chiaro questo concetto e che poi non vi è più necessità di entrare nel merito di queste cose perché c'è stata l'81-2020 che ha definito anche la durata.